e non stavano neanche insieme erano come si suol dire amici di letto stavano insieme a un certo punto lei sente di dover andare al bagno e partorisce nella tazza senza accorso bello già la dire ma non sapevi la testa a pera e invece si era quadrata la tana del frerito ciao broderigno non sono tutti uguali i bambini piccolini appena nati io sono riuscito e ho visto dei bimbi veramente brutti dai poverini no lo so però tu li vedi i bambini belli e i bambini bruttini che magari i bruttini poi diventano dei figli della madonna e i belli diventano degli sgorbietti sono tutti brutti sono gonfi dai ma non è vero ma non è vero il mio è stupendo bellissimo non è perché sono la madre però è bellissimo giustamente però appena appena era uscito era gollum cioè gonfio tutto gonfio rosso completamente vabbè avrà avuto un'infezione io ero bruttino io mi sono visto delle foto io più che altro ve l'ho detto che l'ostetrica non è riuscito a tirarmi fuori ho dovuto usare la ventosa ed è per questo che ho la testa un po' a pera allungata ma non è vero te lo giuro sì vabbè ma che cazzo è un film figa no raga vi giuro no la ventosa si usa ma è illegale non si può eh vabbè era il 94 però no ragazzi il fatto è che io io veramente ma io anche per i miei primi anni di vita ho avuto questa testa un po' ridi ridi no io ho subito del bullismo da bambino per questa cosa però veramente io ho la testa perissima anche perché tu lo sai no cioè ai bambini appena escono tu potresti modellarli volendo non ti piace la forma della testa gliela fai un pochino più si fa tipo e in più devi tenerli la testa perché siccome hanno la testa più pesante del corpo sennò fanno così è vero è vero sì 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 lo so è solo che a me l'ostetrica mi ha tirato fuori mi ha un po' allungato la testa perché la testa è tipo pongo e io per i miei primi anni di vita ce l'ho avuto molto accentuata questa testa a pera e se trovo una foto ve la faccio vedere ma ragazzi veramente testa a pera ti hanno portato da un osteopata eh ormai ero già modellato vabbè vuol dire ce lo porti appena nato e dici lo osteopata fa sì sì ci penso io la ventosa al contrario vabbè ma Giudone alla fine sei venuto fuori un bel ragazzo quindi non dovreste avere rimpianti grazie prego prego alla fine la ventosa scusa mi fa molto ridere la ventosa la ventosa guarda che ti sei salvato eh perché solitamente con la ventosa molti bambini muoiono perché si rompe l'osso del collo qua dietro per questo dovrei illegale scusami no Giudone davvero allora io sono contento ovviamente sia andato tutto tutto per il meglio davvero cioè io lo sai vabbè quanto ti voglio bene quindi poi ovviamente non augurerai mai del male a nessuno ma l'immagine di adesso mi cazzo pronto mamma sono Giudone siamo in live da Grimbaud ah sì sì allora hanno usato la ventosa per tirarmi fuori sì una ventosina d'accompagnamento ma sai che è illegale adesso perché si può spezzare l'osso del collo del bambino eh lo so ma tu sei nato 27 anni fa non ti sei spezzato il collo sei uscito bello come il sole sì ma avevo la testa pera sai che ho subito del bullismo da bambino non è colpa sua cioè vabbè sei prestato bellissimo non è vero mi mandi una foto di quando avevo la testa pera se la trovi che cazzo siamo l'ortofrutta non so non so che non sei a casa hai un telefono però è massimo non tengo le tue foto di quando eri due mesi vabbè si vede che non mi vuoi bene va bene ciao a tutti ciao mamma un abbraccio buonasera signora buonasera guarda ma guarda che cioè adesso mia madre adesso non è per dire che tua madre non ti vuole bene però mia madre ha le foto di quando ero piccolo che avevo la faccia a forma di zoccolo di gnu ma anche mia madre solo che adesso è a Riccione cioè non ce l'ha portata ma tu non ce l'hai foto di quando eri piccolo? sì adesso le trovo mentre che continuiamo la puntata la puntata che cazzo è l'altro azzurro? è stato veramente un insulto dire la puntata un insulto a tutte le cose che vanno a puntate cioè Blackjack oh Gaia stiamo parlando di madri e ecco Gaia che no ma mi scelgo addosso dal retro cioè bottega sono corta stavo proprio ridendo quindi ciao Gaia ma allora ciao ragazzi facciamo così domanda a ognuno di noi e vorrei cioè voi avete dei ricordi particolari qualche complicazione durante la vostra nascita oppure tutto filato dritto io mi ricordo soltanto che quando è nato mio patello l'hanno messo tipo in incubatrice perché è nato blu due mesi prima di quando doveva nascere si è nato blu non respirava e quindi l'hanno messo in incubatrice per tipo due settimane qualcosa di simile e tu invece Sofia tutto liscio? io ero fantastica bellissima spesavo tre chili però ero bellissima ok mia sorella è nata che mia mamma era in piedi tua mamma? era in piedi e mia sorella è nata e mia mamma era in piedi vabbè era la terza insomma quindi è caduta è caduta ti ho fatto si è schiantata contro il pavimento si è buttata per raccogliere la bambina si è buttata così e ha preso mia sorella quindi bastava non la prendessi in tempo che si schiantava contro il pavimento è il cordone umbilitare in realtà in teoria va pesa non è un pendolo non è che dici oh pendolo pendolo tu Giudone lo sappiamo tu Allie invece ti ricordi invece della tua nascita qualche di me niente recentemente ho parlato con una signora con la quale lavoravo in un ristorante che praticamente ha avuto una gravidanza criptica in pratica lei non si era accorta di essere incinta stava con il padre di sua figlia e non stavano neanche insieme erano come si suol dire amici di letto stavano insieme a un certo punto lei sente di dover andare al bagno e partorisce nella tazza senza accorso scusami bello ma non sapevi la testa vera e invece pera quadrata non a pera eh vabbè pera quadrata ci sono pere diverse più una melanzana più una pera quadrata no sono io vediamo fai il confronto sì sono io sono io aspetta mi metto la stessa coloraci i capelli aspetta ma gli occhi ce li avevi marroni? dietro i capelli dietro i capelli adesso c'è più faccia e meno fronte ma c'era più ma ti giuro ma sei sicuro? sì sì sono io sì 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 minchia avevi il doppio naso poi l'hai perso eh vabbè ma tu le orecchie così grandi scusa no io ho i lobby enormi raga vediamo ho i lobby veramente grandi quanti orecchini che potremmo fare minchia veramente perché non diventi un ma no perché è tutto viola ma che cosa ci fai? no perché ce l'ho sotto la felpa e sotto questo quindi è un po' sofficato volevo chiedere dalla storia che era puntata adesso la persona che ha partorito che non si è accorta era leggermente sovrappeso sì io ci avevo no però era non era sovrappeso c'era un po' di panzetta però aveva un po' la pancia perché come fai a non accorgerti di avere un bambino in pancia ma lei mi ha detto lei mi ha detto che praticamente ci sono degli uteri che sono introversi no ho capito introversi non vogliono parlare con gli altri sono un po' timidi sono un po' timidi esatto e quindi il ragazzino cresce verso dentro comunque la pancia si vede però non proprio come se fosse in cibo il bambino è stato in cibo vive a posto che grande lei ha 16 anni adesso ho inconosciuto anche la figlia scusa ma quando ho partorito in bagno come 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 ha fatto vabbè ha partorito si è pulita si è alzata ha tirato lo sciaccone è andata via no no ha chiamato subito i soccorsi gli hanno detto che doveva levare tipo il tappo perché lo sai i bambini hanno tipo un tappo in gola quando nascono no mi manca anche a me mi manca un tappo che serve per non farli strozzare con l'equito amneotico in che senso come ho fatto a toglierglielo sei presente che quando se i bambini se i bambini non piangono quando escono è perché sono morti no devono fare il primo urlo se tu gli togli il tappo infatti li mettono sotto sopra no se tu gli togli il tappo e non urlano sono morti quindi sono tutti lì tipo in super in hype però è un classico la cosa che è preoccupante se i bambini non urlano subito infatti iniziano a fare tipo pom oh sveglia sì vabbè oh non respirava soffocava poveraccio che ansia comunque è il problema mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso prendi una barca per starci con me voglio stare